Abbiamo visto delle esagitate, consiglio a loro di trovarsi evidentemente un fidanzato, perché purtroppo è così, perché non è violenza solo sentirle spingere determinate frasi contro di noi, contro chi sta vicino e poi a volere rispetto. Il rispetto lo si dà a chi in qualche maniera pensa di essere donna in tutte le sue funzioni, perché non è sempre il maschio.